I rischi di quello che viene definito lo switch sono modesti e questo è un qualcosa che possiamo arrivare a dire oggi dopo aver acquisito all'esperienza di molti anni di impiego dei generici per molte malattie croniche nel territorio quindi siamo abbastanza tranquilli all'interno della domanda si nasconde un aspetto che riguarda la questione dell'aderenza alle terapie per cui se mantenere l'abitudine a usare sempre uno stesso farmaco significa in qualche modo aumentare l'aderenza alla terapia che è un fatto assolutamente desiderabile allora da questo punto di vista sarebbe raccomandabile mantenere una certa continuità in questo senso benché diciamo che se questo non avviene non ci sono dei grossi rischi documentati quindi l'aderenza in realtà può essere mantenuta anche indipendentemente dal tipo di farmaco che si lì in quel caso è più importante che il paziente abbia cura di ricordarsi di prendere il farmaco al momento della giornata in cui lo deve prendere piuttosto che dimenticarsene